Giulia Pellegrino mi ha coinvolto di nuovo a partecipare a questo bellissimo progetto per il Teatro degli Arcimboldi. Noi facciamo decorazione di interni e questa volta siamo state chiamate proprio per realizzare quello che è stato concepito dal collettivo inverso. Questo progetto è tutto realizzato su un'accoglienza che però dura poco tempo, per cui i colori sono molto forti, molto accesi e contrastanti tra di loro e adesso sono molto contenta di quello che abbiamo creato insieme.